ascolta leone 1 è scomparso durante una missione la sua capsula da sbarco non si è aperta non sappiamo se sia ancora vivo ma almeno conosciamo la sua posizione purtroppo se lo è è caduto in mano agli insetti se riescono ad aprire la capsula è finito penso che la sua missione sia stata autorizzata dalla sezione psyops ma non so che cosa diavolo doveva fare laggiù non ho trovato informazioni cerca di salvarlo costi quel che costi tutti fanno la loro parte contro la minaccia dell'uso e tu tutti i bambini sanno che gli arachnidi sono pericolosi come gli abitanti di esperus hanno tragicamente scoperto durante il recente massacro per evitare tragedie come questa è necessario che degli eroi si facciano avanti abbiamo perso le tracce del leone in questa vecchia struttura di riciclaggio potresti doverti avvicinare a lui per ricevere il suo segnale ho visto posti peggiori alcuni strumenti sembrano avere dei problemi proprio come sulle terre erose anch'io dei problemi ci troviamo in una zona pericolosa io mi alzirei in volo il prima possibile contaci io resterò in postazione in caso ti serva un rapido recupero buona fortuna leone spero che tu riesca a trovare il tuo amico l'intera struttura veniva utilizzata per il tuo amico è stata per lo smaltimento di scorie tossiche è piena di porte di sicurezza dovrei farci l'abitudine bel lavoro come noterai le porte funzionano a coppie e pare che almeno i sistemi di riserva siano operativi il sistema di sicurezza è in allarme giallo il che significa che puoi aprire solo una porta alla volta l'impianto si estende nel sottosuolo credimi è il posto migliore per quello che c'è laggiù chiama l'ascensore si scende l'ascensore 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti 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 Armamento 2 Grazie a tutti 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 Armamento Grazie a tutti 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 Non puoi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti